e il ballerino dov'è? No, volevo rassicurarvi perché Raimondo adesso si sta operando in questo momento in sala operatoria, piccolo intervento di routine, i medici hanno rassicurato e tra un'oretta cerco di sentirlo e poi mi dirò come sta, io sono preoccupata perché mi è caduta una certezza, dai, Millie sicuramente l'asso ce l'ha e quindi non ci deluderà, non mi deluderà, ci pensa Millie e ci vediamo domani perché io provo comunque e ballerò, spero con lui ma sicuramente per lui, ciao!